Ho il piacere di essere con il dottor Menotti Mazzucca, non per parlare di medicina, ma per parlare della Calabria, di questa bella regione di cui lui è il consultore. Cosa vuol dire consultore? Un po' il trade union tra la comunità calabrese di Toronto e dell'Ontario e anche con la comunità italiana e la regione calabria, le autorità. Quindi cosa comporta essere consultore della regione calabria, dottor Mazzucca? Intanto ringrazio che tu già mi hai presentato e vorrei che, penso che la gente lo sa, insomma io in questo periodo sono il consultore della Calabria. Ora, quando noi parliamo della Calabria, dobbiamo pensare che gli antichi gregi la sapevano lunga, infatti l'avevano chiamata Magna Grecia e pochi sanno che la parola calabria viene proprio dal greco. Calos cala, cala vuol dire bella, vios vuol dire vita, quindi è la regione d'Italia della bella vita. Voglio precisare che non è facile insomma entrare nel sistema o nella regione calabria e vedere che cosa il consultore veramente può fare. Io ce la sto mettendo tutta, sto cercando di fare sì che ci siano degli scambi in modo particolare. In modo particolare devo anche dire questa parola perché la Valle del Savuto, di cui io faccio parte, ha aiutato anche a me ad alcune iniziative con lo scambio di molti studenti che dalla Calabria sono venuti qui e tutte a nostre spese abbiamo sonvenzionato queste persone che oggi si ricordano bene di chi sono i calabresi all'estero e già un qualcosa. Si sta facendo anche qualcosa di molto importante e vorrei che questo venisse realizzato il più presto possibile, cioè ci sono molte persone, molti giovani in Calabria che hanno delle buone iniziative e queste buone iniziative ci sono alcuni per esempio che hanno anche delle produzioni di alcuni prodotti calabresi magari non hanno la grande possibilità di portarli qui e io sto cercando di far sì che queste persone siano messe in evidenza e possiamo fare questo scambio, questo aiuto noi diciamo calabresi in Canada e loro dalla Calabria qui in Canada venire, guardare e insomma questa è una buona idea. Si sta cercando anche di almeno, non so se ci riusciamo, di far sì di pulire alcune spiagge della Calabria così il turista si trova più a suo agio e non solo ma anche a dare una certa sicurezza in Calabria e diciamo che non una arroganza quando si va in Calabria ma un benvenuto con un sorriso in faccia. Tutte queste possibilità sono possibili, cerchiamo di fare almeno ciò dei cooperatori che mi danno anche le idee mi aiutano e speriamo che io riesca a raggiungere questo scopo. Dottor Mazzucca c'è tanto da fare sotto tanti aspetti, quello culturale, quello di promuovere il turismo, promuovere gli scambi commerciali ma soprattutto tenere vivo l'interesse e il legame tra i calabresi e la loro Calabria. Quello che dici è proprio quello che io ho cercato, sto cercando e farò che tutti coloro i quali sono calabrese possono avere una certa fiducia. Naturalmente se qualcuno qui calabrese che ha delle idee diverse dalle mie e me le fa sapere, io le metto in prima parte e cercheremo di fare qualcosa insieme di modo che tutti possano dire noi siamo calabresi, noi abbiamo una stessa mamma e se possiamo finire con l'idea di tanti calabresi che vivono qua, la mamma Calabria dice ricoglitemi figli miei. È una frase che si dice che tutte le mamme dicono ai figli e noi tentiamo anche di fare questo e tentiamo anche di prendere una responsabilità e dare un certo onore a quella che è la zona o la regione in cui noi siamo nati. Grazie, belle parole dottor Mazzucca che sono certo si tramuteranno in fatti, in realtà chiaramente ci vuole del tempo, ci vuole impegno, ci vuole la collaborazione dei politici e anche della nostra comunità. In effetti voglio dire che Roma si dice se uno va all'università di London, Ontario e vede la scritta Roma non è stata costruita di Dugiorno, quindi coloro che dicono ma questo, quello ci vuole del tempo come hai detto tu, però è importante che ci siano delle idee, poi il tempo verrà e vediamo se noi realizziamo una sola possibilità di quella che abbiamo detto e siamo già un successo, abbiamo già la vittoria. Ringraziamo il dottor Menotti Mazzucca, consultore della regione Calabria, gli auguriamo buon lavoro e diciamo siamo con te in questo tuo impegno per fare delle cose belle con la Calabria e con i calabresi. Grazie a me.